Con il tecnico del Foggia, a cui facciamo intanto i complimenti per la prestazione della squadra, dopo il primo quarto d'ora avete giocato 60 minuti di grande calcio. Sì, è vero, abbiamo, come a Palermo, dicevo anche ai suoi colleghi, forse un po' timorosi di quello che ci aspetta, di quello che è il momento, e la difficoltà nello gestire questo periodo. Il step successivo credo che sia proprio questo, provare a migliorare non solo dal ventesimo in avanti, ma anche nei primi minuti, dove possono succedere episodi sicuramente a favore, ma anche a sfavore. Però nel complesso devo ritenermi soddisfatto, perché i ragazzi si sono presentati diverse volte avanti alla porta, hanno creato. Sentivo ai suoi colleghi, lei diceva episodio dubbio al rigore di Mancuso, poco fa ai nostri microfoni Pillon è arrabbiatissimo per il rigore non dato al 49esimo su Brugman. Come la mettiamo? Ma è giusto, ognuno poi ha a fare le analisi in base a ciò che meglio ritiene o a ciò che vede. A me dalla panchina non sembrava calcio di rigore, è per onestà intellettuale, devo dire che rivedendolo fossi trovato al posto di Pillon, forse lo avrei reclamato anch'io. Però dal campo a volte abbiamo delle letture diverse che possono anche ingannare. Le chiedo un'ultima cosa, ringrazio Lino Zingarelli perché deve andare in conferenza stampa. Non si aspettava Marras così libero di agire il primo quarto d'ora? Era un po' impreparato il Foggia? No, no, dall'inizio della settimana che si parlava sui giornali e nelle televisioni private, non di un cambiamento eventuale del Pescale, quindi Marras dietro a Monachello e a Mancuso. Quindi eravamo preparati, però sai a volte le letture e ciò che leggiamo sui giornali non sempre poi risultano veritiere.